Benvenuti amici del canale, oggi un video un po' inconsueto, mi vedete aperto nudo perché ho intenzione di raper me. Non ho mai fatto video di rasatura, probabilmente rispetto ad altri esperti del campo la mia rasatura sarà quella di un cagnaccio, che non si intende per dedicarmi come un fan di Telly Mello, ma intendo una rasatura fatta così, approssimativa, però per me è sufficiente. Sono due settimane che non mi raso, non perché avessi preparato questa rasatura in modo particolare, bensì perché non sono stato molto bene, cioè avevo questo fastidioso mal di gola che a qualcuno dava, anche la febbre che gira in questo periodo e allora non avevo voglia. E così ho pensato di fare, visto che le fanno tutti, vediamo come la mia rasatura, insomma, soprattutto quando io ho una barba, potete vedere, abbastanza folta, con peli duri e grossi e chiaramente con questa lunghezza non si può procedere con il rasoio alla metta, non subito almeno, bisogna fare prima con il rasoio elettrico. Questo in realtà è più un taglia capelli, ma per il mio tipo di barba così lunga va bene questo. Mi sono spogliato, spero di non scandalizzare nessuno, non perché voglia chissà mettere in mostra chissà cosa, non c'è nulla da mettere in mostra per il semplice fatto che se no un sacco di perucchi mi vanno poi nella maglietta e mi tocca, cioè per quanto la sbatti, una maglietta piena di perucchi devi lavarla perché ti rimangono sempre addosso e poi danno molto molto fastidio. Insomma, sono nel mio bagno alla fine, quindi se qualcuno si scandalizza, chiuda e non guardi. Allora, andiamo subito adesso a noi a concentrarci sulla barba. Vediamo un po' se riesco, perché devo avvicinarmi, altrimenti scusate se non l'ho fatto mai, ma ecco qui, adesso dovrebbe andare bene, intanto sgrossiamo questo barbone con il gasolio elettrico. Potete, ecco, vedere forse già cosa c'è qui sopra, poi vi mostrerò che cosa rimane, qui nell'asciugamano, che naturalmente ho messo sotto il lavandino per evitare che si tappi lo scasso. paradossalmente, quando è così lunga viene meglio, con il taglia capelli. Il petto qua invece è più corta, fa più tagliato. c'è, quindi, da un'altra parte, che sarà capita la lama a prendere il pelo. Andiamo con il topelo, nei punti più difficili, che sono messo il tubore. Grazie. 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 Perché sennò rischia di bloccarsi. Guardate quanta roba mi è rimasta addosso. E per questo è meglio farlo a petto nudo così almeno uno si fa una doccia o anche solo si passa un asciugamano in un edito. E si pulisce, sennò è una maglietta. Ed è stato tutto chiaramente. Ho dimenticato, vedete quando si fanno le cose per la prima volta, ho dimenticato lo specchio che è indispensabile guardare dietro. Se mai dopo lo sistemo intanto però mirarlo. Non è necessario ogni volta fare questa operazione di apertura eccetera. Purtroppo non posso fare, servirebbe un cameraman che fa la manovra di ingrandimento tutte le volte, di avvicinamento, oppure metto la camera a una distanza maggiore però poi si vede meno. Dunque questo è un video di pro, adesso prendetelo un po' così come viene appiccio l'inventario, è probabile che neanche ne farò altri, però se ce l'ho a farlo tanto per vedere come veniva fuori, perché poi darò qualche consiglio sui metodi che io utilizzo per mantenere la cute così possibile morbida e quindi rilassata, liscia e giovane. Ovviamente c'è anche da dire che tante rasature non aiutano, non è infatti di tirato, molto tirato, perlomeno col rasoio alla menta, perché tanto è sempre uno stress ossidativo per la cute. Ecco, va bene più o meno. Questo lo appoggiamo qui che si ricarica un po', poi mi sistema dietro, faccio vedere sperando di non perdere subito l'inquadratura, un po' difficile. Ecco, che bel risultato. Ecco qui, questo adesso lo leviamo di mezzo, poi lo butto nel water o in giardino, adesso vedo, che pure nel water tutti quei cosi non è che stiano tanto bene, ecco, sono rimasti anche qui nel lavandino, e qui si poi tappano le tubature, per quello che ogni volta è sempre un po' problematica. dicevo io, la barba comunque generalmente la faccio di rasoio, con rasoio, con rasoio proprio molto molto di rasoio, e quello alla menta. Quello elettrico invece lo utilizzo circa una volta alla settimana. Prendiamo poi l'acqua calda, chiuso questa, adesso come presta non si vedeva, chiedo scusa, non sono abituato a queste impallature così piccole purtroppo, uso questa crema qui, vedete? Vabbè si vedeva lo stesso, e per economica, insomma, la migliore. Non è chissà che cosa, è quasi finita ma ne ho un'altra perché è in condizione dolce. Con un po' di acqua calda intanto si immobilisce, poi si va. Io non ho il pennello, però è sufficiente spargerla in maniera uniforme sul viso, anche abbondante nella superficie, senza esagerare magari la quantità, però massaggiate un po', in maniera pare che il massaggio aiuta molto il peno ad emergere, il polo si allarga. E poi la rasottura viene meglio e meno fastidiosa. Io poi ho una punta abbastanza delicata, quindi ho dovuto anche un po' ingegnarvi, soprattutto questo per quanto riguarda il dopo barba, per trovare qualcosa che facessi al caso io. E quindi poi vedremo cosa che utilizzo, che non necessariamente ci sono tutti prodotti specifici per la barba, ma ve li farò vedere. Allora, questo è il rasoio che utilizzo, è il Gillette Fungeon, non so se proglide, si, proglide. Vedete? Cosa un sacco di soldi, la lametta di sette di lamette, però io l'ho brutalmente tirata, una lametta io la utilizzo almeno quattro o cinque volte, certo la quinta comincia ad essere un po', un po' sputtata. vediamo se viene l'acqua calda. Questo ha la caratteristica di avere una specie di pettinino al silicone qui sotto, che cerca di raddrizzare un po' il pelo, lo mette contro pelo, per fare in modo che le lame che stanno sopra, sono cinque lame, lo taglino al meglio. Poi abbiamo anche la barra emolliente, che adesso è un po', questa dopo due o tre volte già in pratica finisce, ce ne rimane bel poca. La storia delle lame è interessante, perché queste lame non è che si prende una lametta d'acciaio, la si affila e a posto, no. Queste lame qui sono state studiate, sono costate un sacco di soldi e derivano da studi, addirittura per l'esplorazione spaziale. Vengono da quegli studi lì, che poi sono stati riempiegati nel mercato civile tra le varie cose, anche per questo, ecco perché costano tanto. io non ho quei rasoi da barbiere, quelli servono la coramella e altri elementi vari per affilarli, ma questo va più che bene. Cercare di prendere contro pelo, io prima di solito faccio lato verso pelo, vedo come viene, poi se rimane molto evidente passo il contro pelo, perché il contro pelo è sempre uno stress per la punte. infatti tante volte, anche se rimane un po' la presenza, lascio perdere perché non me ne frega, quindi lì vi dicevo la rasatura un po' da cagnaccio. però suppongo che, soprattutto per un ragazzo che inizia, e che ha la pelle sensibile, qualche consiglio, se non ha in casa qualcuno che gli sape o che gli possa dare, faccia comodo. a me piacciono molto i video di Asner Barber, che è un ragazzo di Chieti, Massimo, ha tantissimi iscritti e lui in pratica fa dei video dove si presta, non si rare da solo, ma si presta le rasature dei professionisti, sia della sua zona, cioè sono i molto bravi, sia anche in giro per il mondo, come ho visto, ha dei video, fa un sacco di visualizzazioni. Prima il canale suo si chiamava Tarmax82, e faceva tutt'altro, poi ha scoperto che erano questi video di rasatura, e adesso fa quelli, in inglese poi, quindi è un canale seguito molto molto dagli stranieri. Ecco, diciamo che il più è fatto, adesso, in sciacquo, e vediamo se c'è rimasto qualche, di masuglio. ecco qui, non voglio esagerare, anche se vedete, ci sono dei punti in cui, non è proprio perfetta, abbastanza liscia, nonostante tutto, non è proprio perfetta, forse, però non voglio esagerare, perché più vado a raschiare, più mi irrito, mi si irrita la pelle. Quindi, quando è così, a questo punto, passiamo all'asciugatura. io lascio sempre l'asciugatura da un grosso, però un po' di umidità la lascio sempre sulla superficie della cute, in maniera tale che la pelle è sempre un po' idratata. Poi vediamo che cosa passo. Allora, io uso questo prodotto qui, che è un prodotto medico, in realtà, voi direte, è la cicaterina. C'è anche un altro prodotto, adesso non mi ricordo come si chiama, che è più o meno equivalente, perché ha l'acido ialuronico al 2,0,2%, adesso non mi viene il nome, però è similare, si prende sempre in farmacia. Perché prendo questo che è un medicamento? perché ha l'acido ialuronico in concentrazione più alta, cioè il massimo che si trova è qui. Nei prodotti cosmetici non c'è una quantità tale. È una crema molto pastosa, l'ha stesa bene. È normale se rimanete un po' con un velo bianco. e questa va con economia, perché costa parecchio, però va utilizzata anche in altri punti, come la fronte. Nel contorno occhi, qui, sulle tempie dove si formano le ruve di espressione, anche con dei massaggi, magari. Sulla fronte è lo stesso dove si formano delle ruve. vedete che è già assorbito la pelle dopo una rasatura fatta con un rasoio. Ha proprio sete. Più andate a scavare contro pelo nei punti più difficili, e più la pelle si disidrata e ha bisogno poi di essere reidratata. Un'ultimo tantino qui nel contorno occhi, perché il contorno occhi è quello che dà l'espressione più o meno giovanile o più o meno anziana. e anche qui ai lati queste fossette tra il naso e le labbra più sono accentuate e più danno l'idea dell'anzianità. così come attorno alle labbra si creano quelle screpolature tipiche della vecchiezza che più si riescono a rimandare meglio è. E basta che voi guardiate quanto cambia il contorno occhi quando ci si massaggia e che si sollevano qui le tempie. Infatti negli interventi di chirurgia plastica tendono sempre con risultati a volte pacchiani a alzarsi e fissare le tempie più in alto, in maniera tale che anche le sopracciglia si alzino e si sembri più giovane. Ecco qui. Lasciamo agire un po'. In teoria almeno 5 minuti. Però visto che adesso non posso stare 5 minuti così senza dire o fare nulla faccio una cosa più rapida. Intanto però anche se adesso non mi sono lavato questo andrebbe fatto dopo una rasatura e dopo essersi anche lavati magari. Però per il corpo io utilizzo questa. È molto economica. È una crema limitiva con olio di argan. Crema corpo. Anche per il corpo va attuato una certa cura. Adesso non l'ho fatto dopo una doccia come avrei dovuto. Però vabbè giusto per farvelo vedere. Nel frattempo mi agisce meglio sul viso. La crema all'acido ialuronico. Perché poi ci metto, quella è la base, poi ce ne metto un'altra a protezione della crema stessa in maniera tale che quella rimane lì più tempo, si assorbe in maniera più efficace. perché se io andassi in giro adesso solo con quella crema lì sulla pelle è l'effetto stesso dell'aria che un po' la fa fa diminuire l'effetto idratativo. E se fa questo è sprecata. Invece mettendoci un'altra crema sopra quello strato lì è protetto e può penetrare maggiormente all'interno. dovrei anche radermi la maghevora il torace e il tetto però farò la prossima volta. iniziamo a fare un po' di più poi andiamo a fare un po' di più che ci metto. Noi... 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 per adesso dare la protezione alla al primo strato di crema utilizzo questa crema qui neutrogena crema norvegese quasi finita questa è molto morbida al contrario molto più più liquida più fluida e molto più viscosa come si chiama quella l'acido di aluronico quindi questa si espande meglio e si asciuga anche molto più in fretta anche questa va passata in tutto il viso dove è stato è stata stesa l'altra so bene che questo video abbastanza sui generis e non so se ci sarà un seguito rispetto a quelli soliti però anche la cura della propria persona nel proprio corpo non fateci caso ha la sua importanza perché viviamo in società e quindi penso che tutti quanti dobbiamo cercare di mantenersi al meglio il più lungo possibile ok il video diciamo che si può concludere qui la sbarbata è fatta la crema anche è stata messa e che dirvi se vi è piaciuto fatemelo sapere se non vi è piaciuto fatemelo sapere lo stesso con educazione naturalmente poi vedremo può darsi che ci sarà un altro seguito se ne avrò voglia anche a prescindere poi dal dal riscontro o dal feedback come si dice ora oppure intanto vi ringrazio per coloro che sono rimasti a guardare e ci vediamo al prossimo video qualunque esso sia di altro genere sicuramente dopo di questo ce ne sarà di un altro tipo ciao e alla prossima ciao